Gestire le proprie emozioni e il comportamento sul posto di lavoro, imparando le buone pratiche innanzitutto. Era mirato a questo il seminario svoltosi nel pomeriggio alla MIB School of Management e organizzato dall'Associazione Sicurezza sul Lavoro in Friuli Venezia Giulia. L'evento è il primo di una serie di incontri relativi alla questione comportamento correlato allo stress lavorativo contenuti nel progetto presentato alla Regione dal Presidente dell'Associazione Roberto Casonno. L'Associazione Sicurezza e Lavoro Friuli Venezia Giulia, che ho l'onore di rappresentare, ha organizzato l'evento sulle competenze riguardanti la gestione dei comportamenti e delle emozioni sul lavoro perché in un momento critico come questo, dove non si ha la certezza del posto del lavoro, è importante comprendere come comportarsi all'interno di ogni organizzazione. Ad affrontare la tematica dal punto di vista della psicologia del lavoro, due esperti come il dottor Paolo Fusari e la dottoressa Claudia Datri. Oggi le persone sono un po' più in difficoltà, sia le persone che hanno perso il lavoro e anche le persone che comunque un lavoro ce l'hanno. Quindi per quello noi parliamo di emozioni del lavoro, perché parlare di emozioni del lavoro vuol dire rafforzare le persone nei loro comportamenti, nei contesti di lavoro. Per esempio la paura della perdita, e quindi in particolare sto parlando proprio della paura della perdita del lavoro, è che è una situazione emotiva. E quindi vanno aiutate le persone che lavorano e anche che magari sono in una situazione di difficoltà a rafforzarsi sempre di più in queste competenze.